86 casi di cui due negativizzati, 42 nell'ultimo bollettino diramato dall'ASL, un quadro decisamente allarmante che preoccupa e non poco la comunità di Calitri in Alta Irpinia. Il sindaco Michele Di Maio ha invitato tutti a mantenere la calma e ad essere più responsabili, un appello rivolto soprattutto ai giovani. Che possiamo pensare? Che va tutto male, dobbiamo stare dentro, però chi non ha nessuno si deve avviare a fare la spesa. La situazione è critica, grazie alle alte cariche dello Stato siamo messi male. Ieri sera c'è stata in paese una disinfezione straordinaria sull'intero centro urbano. Non è piacevole, certamente un po' di paure c'è, per il resto si va avanti. Tragica, tragica, non se ne vede la fine, ogni giorno peggiora. Come se ne esce? E' come se ne esce, qui nessuno ha la lanterna magica, se non osserviamo strettamente le regole, andrà ancora peggio. Un po' di apprezzione, però comunque siamo abbastanza tranquilli. Dentro le mascherine, qui sono fatte. Che vogliamo dire? Avete paura? No, io non tengo paura. Quando ne volo quasi, non te lo capisco paura, che ti fa già la paura? No, io non te lo capisco.